un ospite in studio. Per intervenire telefona allo 0376 63 17 09 oppure manda un sms al 338 17 19 105 o una mail a diretta at temporadio.it. Il bentornato negli studi di Temporadio oggi lo diamo al primo cittadino di Pozzolengo, di nuovo con noi il sindaco Paolo Bellini, bentornato. Buongiorno. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, ricordo il numero per sms e messaggio whatsapp che è il 338 17 19 105. Le linee telefoniche di Temporadio sono sempre aperte a disposizione, quindi il numero è lo 0376 63 17 09. Poi ancora siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Temporadio e su YouTube cercate Temporadio Live 25 gennaio. Allora, dunque Pozzolengo, grandi preparativi fervono ora a Pozzolengo. Siamo già in clima fieri San Giuseppe, quindi la macchina organizzativa si è già messa in moto, quest'anno ci saranno alcune novità dove anche nella dispensa morenica verrà risaltato sempre di più quello che è il Lugana, il nostro territorio. Sarà una manifestazione improntata nel vero e proprio senso della parola al 100% sulla promozione del territorio, la promozione dei nostri prodotti tipici e delle nostre eccellenze. Naturalmente va bene Pozzolengo ma anche le colline moreniche allargando un po' quello che è il panorama delle eccellenze all'interno di questo territorio. Quindi sicuramente invito già fin da subito il 16, 17, 18, 9 marzo a essere presenti e quindi venire a festeggiare con noi questa grande manifestazione. 16, 17, 18 marzo. Questi appunto i giorni... ci saranno degli eventi a corollario anche il 19 che è un lunedì ci sarà un aperitivo con della musica così come anche il venerdì, alcuni il 16, venerdì 16 quindi anche qua ci sarà un aperitivo in un certo tipo quindi è veramente sono quattro giorni intensi soprattutto Natura come diciamo sempre il sabato la domenica quindi il 17, 18 saranno i giorni clou però anche i giorni prima e i giorni dopo saranno veramente intensi. Che bello appunto quando si passa per Pozzolengo e spesso capita di vedere proprio a Pozzolengo una comunità... qual è il segreto di una comunità territorialmente estesa perché Pozzolengo è grande come territorio ma così unita. Siamo 22 chilometri quadrati di territorio con 3500 abitanti ma dico sempre che Pozzolengo ha la grande fortuna di avere una popolazione che ha un grande cuore e lo dimostra quotidianamente abbiamo dei servizi importanti, il centro Hauser, quindi abbiamo una casa di riposo, è veramente un luogo dove i servizi sono stati costruiti con grandi sacrifici da parte dei nostri concittadini dopodiché abbiamo 23 associazioni che ho 20, 22, 23 associazioni di volontariato che operano sul territorio quindi credo che questo sia un legame importante, un collante importante all'interno di una comunità. Per cui sì esatto, per cui appunto proprio riuscite a dare lezioni in senso buono intendo a dire anche comuni più grossi tanto per intenderli, proprio come unità. C'è un messaggio in cui dicono il paese è davvero pulito e ben organizzato, bravi tutti, tra l'altro adesso anche voi prendete qualche cosa anche per la sicurezza? Abbiamo già deliberato quindi è già stato tutto predisposto, deve essere solo eseguito la parte finale del lavoro, le ultime telecamere per il controllo del territorio, quindi andremo ancora una volta a controllare una parte del territorio, toccherà tutta l'area delle scuole quindi i plessi scolastici, i parcheggi che gravitano attorno ai plessi scolastici così come anche la nuova piazza Pederzoli dove c'è il centro risorse sociali, quindi controllo del territorio dove transitano, tra virgolette, fasce deboli della popolazione. Dove proprio ci sono i punti sensibili, come si suol dire. Tornando al discorso di prima, dice Bellini, la fiera di marzo è bella, però in agosto con la pasta asciutta e il boom, è un'altra stagione, è un'altra tipologia. Dobbiamo dire che quest'anno ci sarà una novità, tra marzo e agosto avremo un intermezzo dove stiamo già lavorando per costruire questo evento che sarà la riavocazione della battaglia nei confronti del nostro castello, nel nostro borgo medievale, nel nostro borgo fortificato avvenuta nel 1630 a cavallo del 13 giugno da parte degli Lanzichenecchi comandati dal Conte di Collalto. Quindi Pozzolengo ha resistito chi dice 5, chi dice 8 dai documenti storici giorni, in maniera molto cruenta, l'attacco è stato svolto e ha resistito con grande tenacia e con grande onore e con grande coraggio, respingendo tutti gli attacchi, andando a decimare l'esercito di questi Lanzichenecchi comandati dal Conte di Collalto che provenendo dal Mantovano stavano direttamente andando su tutta la provincia di Brescia. Pozzolengo è stato veramente il baluardo che ha fermato questo esercito, l'ha decimato e hanno dovuto ritirarsi e andarsene perché ormai non potevano più continuare questa campagna, questa battaglia, questa campagna di guerra perché avevano ricevuto una pesante sconfitta delle pesanti perdite e per questo siamo stati premiati anche dalla città di Brescia che a sua volta è stata riconosciuta tramite la Serenissima. 1630, appunto i Lanzichenecchi gli stessi che portarono la peste raccontate da Manzoni, proprio gli stessi, lo stesso periodo e quindi appunto... Vogliamo rievocare appunto questa battaglia all'interno del nostro parco, sotto le pendici del castello, quindi dal Monte Fluno che ospita il borgo fortificato, ci saranno circa 100 figuranti con naturalmente i costumi d'epoca, armi d'epoca, un campo militare con circa tra le 20 e le 30 tende, mestieri d'epoca, cibo anche d'epoca, quindi sarà veramente un sabato e domenica intenso anche qua e sarà a grandi linee, quest'anno andremo verso la fine di giugno, quindi 30 giugno prima luglio. Ci si diverte sempre quando si parla di rievocazioni del passato, cosa mangiavo nel 1630? Aprivi il frigorifero? No, aspetta, il frigo non c'era, vabbè, allora mettevo nel microonde, no, non c'era, altri cibi appunto proprio una volta. Quindi quando sarà questa rievocazione? A grandi linee è il 30 giugno primo luglio 2018. Qui è un qualche cosa da vedere sicuramente. Allora, vediamo, 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 salve sindaco, mi hai pensato di fare una tranvia per il lago. Una volta c'era una tranvia, una volta, poi vabbè, qua caliamo un velo pietoso, qua potremmo parlare in tocca a noi, chissà perché, sono stati tagliati, tolti, al beneficio di altri. Abbiamo già la Stav che dà problemi, la tranvia mi sembra una cosa un po'... Ma tra le altre cose noi avevamo un casello ferroviario a Pozzolengo, a un chilometro dal centro abitato, andando verso la Rovizza, si chiama proprio località casello ferroviario, che fino al 1800, fine 1800 è stato casello ferroviario, era la fermata, una fermata importante tra le altre cose, ed era stata costruita dagli austriaci a suo tempo, perché dovevano scaricare i mezzi militari piuttosto che rifornimenti e quant'altro. Poi questa fermata è stata, diciamo così, tolta e soppressa ed è stato fatto il casello ferroviario, la stazione ferroviaria che c'era a San Martino della Battaglia. Che poi è stata soppressa anche quella. Che poi è stata chiusa anche quella e via andare. Infatti, per cui, poi le chiedono un'altra informazione, poi adesso andremo a parlare ancora. Come si fa a conoscere a proposito di spazio e riuso le opportunità varie? Basta andare sul nostro sito, oppure fare un colpo di telefono in segreteria al 918364 interno 5, ripeto 030 918364 interno 5, la signora Deborah vi darà tutte le indicazioni del caso per potervi mettere in contatto con Tempo Riuso, che poi vi darà tutte le opportunità che ci possono essere sul territorio. E ancora, visto che mi passate la palla al balzo, quindi faccio un, diciamo così, promozione, come si suol dire. Venite pure a Pozzolengo, ci sono spazi importanti, è una comunità viva, sa apprezzare coloro che lavorano, noi vogliamo dare dignità al lavoro, quindi artigiani, non artigiani, piccole e medie imprese, commercio di vicinato, artigianato artistico, studi professionali, siete ben accetti. Pozzolengo e vi sta aspettando. Gli spazi ci sono e le opportunità vi sono. Ed è più bello, tra l'altro, un artigiano con la sua bottega in centro che non altrove. Altro messaggio, in Garda 1 lei ha votato contro il confluire in acque bresciane, perché? Punto di domanda. Le posso dire anche che sono arrivate nei giorni scorsi dei messaggi, abbiamo avuto per esempio esponenti di Garda 1, eccetera, non proprio favorevoli al conferimento dell'idrico. Innanzitutto per una questione di rispetto. A me piace sempre ricordare che nel 2011 il popolo italiano si è espresso in maniera preponderante e forte, cioè il 93%, 92-93% dei consensi perché l'acqua manca pubblica e il quorum è stato ampiamente raggiunto, quindi credo che il referendum sia corretto e sia stato eseguito in ogni sua forma, in maniera corretta e ha dato un risultato importante che tutta la politica dovrebbe ascoltare. Innanzitutto, ripeto, per rispetto nei confronti del cittadino ha detto che l'acqua deve rimanere pubblica. Con fluire in acque bresciane significa che adesso andrà in gara almeno il 49% della proprietà, quindi il capitale non sarà più interamente il 100% pubblico, ma almeno il 49% sarà privato, tanto per essere chiari. E questo a maggior ragione vengo a dire perché sono contrario. Se fosse un obbligo, vabbè ragazzi, l'obbligo è obbligo, se la legge ti impone sei obbligato, ok, siamo uomini di legge, siamo uomini che dobbiamo rispettare lo Stato, di conseguenza che piaccia o che non piaccia andiamo su quella linea. Ma nel momento in cui la legge ti dà la possibilità di andare per conto, di continuare con l'esperienza Garda 1? Perché Garda 1 ha la titolarità di poter andare, poteva mantenere tranquillamente la titolarità dal 100% pubblica con i suoi 23-24 comuni fino al 2031. Bene, signori, da qua al 2031 ci sono ancora 15 anni, mi sembra 14-15 anni, perché la matematica non è un'opinione. Iniziamo a usare questo tempo, anche perché all'interno di Garda 1, così come anche in altre società si sta in maniera prepotente lavorando per avere un Garda unico, quindi avere un ato del Garda, perché credo che sia corretto. Quindi non capisco la necessità di confluire un ramo d'azienda e vi dico anche i numeri, perché i numeri sono importanti, cari amici. Noi ieri Garda 1 era un'azienda con più di 50 milioni di fatturato e più di 4 milioni di euro di, diciamo, tra virgolette, utile, anche perché è una SPA. E come era suddiviso? Erano circa 30 milioni, 30 milioni il fatturato, il fatturato per quanto riguarda il servizio idrico, con circa 3 milioni di euro di utile e gli altri 20, 22, 23, 24, 25 milioni, dato da tutto il resto, energia, rifiuti e quant'altro, con un milione di euro di utile. Quindi oggi tutti i comuni che sono aderenti a Garda 1 si trovano con un'azienda che non vale più 55 milioni di euro, 54 milioni di euro di fatturato, ma ne vale 24, 25 e non vale più 4 milioni di euro di utile, ma ne vale uno. Quindi c'è anche un danno importante nei confronti di tutti i nostri comuni e io l'ho fatto presente in assemblea, attenzione, che potrebbe anche configurarsi come un danno erariale, tanto per essere chiari. Inoltre stiamo facendo un danno enorme nei confronti dei nostri concittadini, perché hanno votato, sono andato a vedere anche la provincia di Brescia, che magari non siamo fuori dal mondo, anche la provincia di Brescia a più del 90% ha detto che l'acqua deve rimanere pubblica. Io non comprendo questa scelta affrettata, qualcuno dice perché abbiamo la depurazione centrale del Garda, il ministero ha già stanziato 100 milioni, benvenga, a parte che ne servono 230, ma non è che se Garda 1 entra o non entra in acque bresciane il depuratore centralizzato non veniva fatto. Il lago di Garda è un bacino lacustre, il più grande d'Europa, è un patrimonio non della provincia di Brescia, non della provincia di Trento, non della provincia di Verona o delle regioni che sono loro appartenenti, ma è un patrimonio pubblico dell'intera Europa, quindi è un interesse dell'intera Europa andare a sistemare la depurazione, anche se oggi il lago è depurato, non vi preoccupate, è logico che servono degli interventi, ed è questo che veramente lascia la mano in bocca. Ecco perché ho votato contro e ho chiesto che venisse messo a verbale. Certo, allora, Sindaco, la zona industriale dovrebbe avere una pianta con le aziende, faccio il corriere ed è difficile, le dicono anche, adesso si ci fermiamo un attimino, è arrivato purtroppo un messaggio adulterato, anche poi ancora, vediamo. Però entrando nella zona industriale c'è un mega cartello con tutte le indicazioni, azienda per azienda, quasi tutte o tutte, dove viene data l'indicazione dalla direzione. Allora, fermiamoci un attimino con Paolo Bellini, Sindaco di Pozzolengo, ci ritroviamo tra pochissimo, all'interno della rubrica Tocano e vediamo se ci sono comunque ancora messaggi per il Sindaco, arriviamo subito.